La conosce, beh allora, comunque dopo la scuola che mi viene, quasi mi raccoglio, sì, scusate. Grazie a tutti. La conosce, beh allora, comunque dopo la scuola che mi viene, quasi mi raccoglio, sì, scusate. Madonna, egli è traduto, iuda sì l'ha venduto, trenta da l'anno avuto, fatto la gran mercato. Succurri, maddalena, giontami addosso piena, Cristo figlio semena, come me ha iniziato. Succurri, donna, aiuta, che il tuo figlio si sputa e la gente lo muta, anglo dato a Pilato. Oh, Pilato, non fare il figlio mio tormentale, che io ti posso mostrare come ha torto e accusato. Crucifige, 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 uomo che se pareggia e secondo nostra legge contraddice al Senato. Prego che mi intentati del mio dolore pensati, forse momentati di che avete pensato. Tra con fuori i ladroni, che sia suoi compagnoni, dei spinesi coroni che regge se è chiamato. Oh, figlio, 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 figlio amoroso Giglio, chi dà consiglio al cor mio angustiato? Figlio, occhi giocondi, figlio, co, non rispondi, figlio, perché t'ascondi dall'appetto si l'ha dato? Madonna, ecco la cruce che la gente raduce, oltre la vera cruce e il meglio esser levato. Oh, cruce, che farai? Il figlio mio torrai, e che giappone rai? Che non hai in sé il peccato? Succurri piena di donia, che il tuo figlio si sfoglia, la gente parche voglia che in cruce sia chiamato. Se tu lete il vestire, lassate il venire, come il crudel ferire, tutto l'ha insanguinato. Donna, la maglia è presa, e nella cruce è stesa, con un bolloglio effesa, tanto l'ho conficcato. L'altra mano si prende, nella cruce si stende, e lo dolor si accende, che è più moltiplicato. Donna, li pie se prendo, e chiavella se allenno. O neiondur, o neiondur, o neionduraprenno, tutto l'ha desnodato. E io comincio il corrotto. Figliolo, mio deporto, figlio, che metà morto, figlio mio delicato. Meglio avere il fatto che le cor ma vissero tratto, che nella cruce tratto sta cedescigliato. Mamma, o sei venuta, mortal mi dai feruta, che il tuo piangere mi studa, che il peggio sia ferrato. Figlio, che maggior vito, figlio, padre e marito, figlio che t'ha ferito, figlio che t'ha spogliato. Mamma, perché te l'anni? Voglio che tu rimani, che sempre i miei compagni, che al mondo ha giocistato. Figlio, questo non dire, voglio te che morire. Non mi voglio partire, finché non me esce il fiato. Una già sepoltura, figlio di mamma sicura, trovasse a una frantura, madre e figlio affogato. Mamma, col cuore afflitto, entro alle mante viento di Ioanne, mio eletto, sia il tuo figlio addellato. Ioanne, esta mia madre, tolle le caritate, angine mi date, calo cuore afforato. Figlio, l'alma che uscita, figlio della sbarlita, figlio della sbarlita, figlio indossicato. Figlio bianco e berniglio, figlio senza sigillo, figlio a chi mappello, figlio pur mai lassato. Figlio bianco e biondo, figlio volto ricomondo, figlio, perché tal mondo figlio così sprezzato. Figlio dolce e piacente, figlio della dolente, figlio a te la gente malamente trattato. Ioanne, figlio novello, morto è lo tuo fratello, sentito agio il coltello che fu profetizzato, che morto a figlio e madre, in dura morte afferrate, trovarsi abbraccecate, madre e figlio a un crociato. Scusate, non posso leggere questa cosa senza emozionarmi, ha ragione il padre. Io, essendo mamma di quarto figlio, so che cosa vuol dire. Ricanziamo la Zia Carlo, che ha fatto la torta e l'Itta ha messo la cina in cina sopra. Ora ce la facciamo, la digeriamo e vogliamo gustarla, grazie. È stata una bella serata, interessante, perché qui è meglio chi è questo personaggio, che è il nostro cittadino, Ragnacopone, e la sua spiritualità. Il suo amore a Cristo, la sua vita è l'esempio per tutti noi. Grazie. Volevo dire che domani sera, alle nove, in un santuario, c'è un'altra serata culturale, c'è un autore che da solo recita e fa tutte le parti della passione, recita la passione da solo, facendo tutte le voci e le parti dei personaggi che entrano nella lettura della passione. Dopodiché sera in il santuario, venite alle nove e un quarto, e poi ci rivediamo qui domenica alle palme, venerdì alle nove la via cruce di Sperdi Santo. Prima ancora sabato alle prove. Tonino viene qua, che non capisco. Sabato alle tre e mezza. Sabato alle tre e mezza alle nove, per le palme. Poi in fondo avete un giornalino nuovo, l'orario della Pasqua, e anche una lettera del Papa, che interessa tutti i cristiani. Prendete il portato in casa e leggete, e leggete la passione che ci prepara, a celebrare legnamente l'amore misericordioso del Signore. Buonanotte e buonanotte. Sì, che vada.